Cambiamo argomento, parliamo di economia e affrontiamo temi più che mai attuali di grandi interessi come quello della possibilità di finanziare la nascita o lo sviluppo delle imprese con degli incentivi e contributi a fondo perduto. Lo facciamo stamattina in compagnia di Ivan Ghiraldi, esperto di incentivi alle imprese e amministratore unico e founder della società di consulenza in Global Financial Service. Buongiorno e grazie di essere con noi a Mattina Live. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Ecco, molte persone spesso hanno delle buone idee ma non i capitali poi per avviare o far crescere un'azienda e ci si dimentica spesso che ci sono numerose opportunità di finanziamento che possono essere quindi utili in questi casi. Quali sono in generale i principali strumenti di finanziamento oggi a disposizione delle imprese? Allora, oggi è fondamentale parlare di finanza agevolata e quindi ringrazio voi come programma che avete dedicato questo spazio alla finanza agevolata. Perché è importante la finanza agevolata? Perché la finanza agevolata garantisce l'accesso al credito ad aziende che ad oggi hanno difficoltà ad ottenere un credito bancario. Lo si ottiene grazie ai fondi statali, quindi parliamo di fondi a fondo perduto e fondi a tasso zero. Ad oggi esistono tantissime opportunità per le aziende. Parliamo di fondi, per esempio, Fondo Rotativo Campania che a breve uscirà il 24 ottobre e che sarà possibile spedire progetti entro l'8 novembre. Questo è un bando che prevede il finanziamento ad attività della filiera, per esempio, della manifattura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e permette di avere fondi da 500 mila euro fino ad un milione e mezzo di euro. Quindi stiamo parlando di fondo rotativo regionale, ovviamente lo ripetiamo per i nostri telespettatori. Il bando di grande attualità in questo momento, lo possiamo dire, è a quale tipo di imprese è diretto e quali agevolazioni prevede? Allora, il fondo rotativo è disponibile per tutte le attività che si occupano nel settore del commercio, sviluppo, impresa, artigianato e questo per esempio l'artigianato è uno dei settori un po' bistrattati, pochi sono gli investimenti che è possibile fare sull'artigianato. Che cosa prevede? Come ho detto prima, 500 mila euro è il minimo dell'investimento fino ad arrivare ad un milione e mezzo di euro. Con che tipologia di finanziamento? Il 30% è possibile averlo a tasso zero, quindi senza interessi, con una durata di 10 anni. L'altro 70% con tassi bancari. Chiaramente sono tassi bancari agevolati, diciamo che si aggira intorno ad una percentuale di interesse pari al 3% anno, che ad oggi è quasi un miracolo visto che le banche oggi viaggiano con un tasso di interesse quasi al 10%, che per un'impresa attenzione è praticamente un qualcosa di distruttivo, perché stare sotto le grimpie delle banche con interessi così alti, spesso ci troviamo che le imprese non riescono a restituire gli importi richiesti. In base a quali criteri e poi indicatori vengono selezionate le aziende da finanziare? Allora, se parliamo del bando in questione, cioè quello del fondo rotativo, diciamo viene fatta un'analisi dell'azienda, viene fatta un'analisi praticamente sul cash flow dell'azienda, sulla storicità dell'azienda, se è un'azienda che in questo momento può essere in profitto piuttosto che in deficit, se ha investimenti importanti da fare, quindi questo fondo serve praticamente per le imprese che devono ampliare e rigenerare, lasciatemi passare il termine, la propria azienda, cioè aziende che cercano di puntare in alto. E poi c'è un altro bando molto interessante, mi riferisco a nuove imprese a tasso zero, in che cosa consiste? Allora, questo è un bando aperto da circa 5 anni, per il momento in Italia continua a metterci i soldi su questo bando, quindi c'è una capienza enorme in questo bando, prevede la partecipazione in due fasi, la prima per le persone che non hanno un'azienda e quindi vogliono aprire la propria attività, lo possono fare i maschi che hanno massimo 35 anni e donne senza limiti di età, diciamo c'è questa piccola differenza tra uomo e donna. Che cosa permette di avere? Dai 30 mila euro fino ad un milione e mezzo di euro, il 20% è a fondo perduto, l'80% è a tasso zero in 10 anni. Io se sono una persona che vuole aprirsi un negozio per esempio di abbigliamento, utilizziamo uno degli ambiti più particolari in questo momento che stanno soffrendo tantissimo la crisi. Voglio aprire un negozio di abbigliamento e non ho capitali per investire nella mia futura attività, posso chiedere al fondo per esempio di finanziarmi 100 mila euro, 20 mila non li restituisco, 80 li devo restituire in 10 anni, questo è importantissimo. Un altro bando che ha funzionato bene in passato e che ha fatto nascere tantissime imprese è stato Resto a Sud. Ora si sta per avviare la nuova versione di Resto a Sud 2.0, il nuovo Resto a Sud quindi, qual è la differenza? Allora diciamo che Invitale in questo momento ha un attimo bleffato perché il 6 ottobre doveva uscire questo decreto dirigenziale dove dovevano dare le linee guida di questo bando nuovo, soltanto che ad oggi ancora non abbiamo notizie, ci sono solo notizie di corridoio fondamentalmente. Il Resto a Sud, dati alla mano, statistiche alla mano, dicono che è il bando più importante degli ultimi 10 anni di finanza agevolata. Tutte le attività, l'80% delle attività aperte negli ultimi 5 anni, quindi post-Covid, sono state aperte tutte quante con il Resto a Sud, quindi significa che era uno strumento perfetto. Chiaramente è stato aggiustato nel tempo, sono state modificate tante cose e quindi fondamentalmente è arrivato quasi alla perfezione. Adesso il governo ha deciso di, soprattutto in Italia, ha deciso di modificare questo Resto a Sud e quindi farlo diventare 2.0. Ad oggi si prevede un plafondo di circa 500 milioni di euro, quindi una grossa somma, quindi dimostra che in Italia crede ancora nel Resto al Sud e le uniche notizie che abbiamo in questo momento sono che potrebbero abbassare l'età per i maschietti, quindi farli partecipare fino ai 35 anni, e le donne senza limiti di età. Diciamo che ormai è quasi una scelta di in Italia quella di investire sui giovani e sulle donne, quindi sull'imprenditoria femminile, che io condivido, però i maschietti dovrebbero anche essere aiutati fondamentalmente. Ci sono anche fondi per il settore dello spettacolo, giusto? Assolutamente sì. Allora, per i fondi dello spettacolo esiste un bando che si chiama Europa Creativa. Questo è un bando europeo, appunto, e pochi conoscono i fondi europei, pochi sanno che i fondi europei esistono, possono essere presi e possono anche essere spesi. Fondamentalmente questo è un fondo che vi permette di avere il 90% a fondo perduto e il 10% di equiti, cioè significa che io nell'investimento devo mettere un 10% di equiti all'interno del progetto. Quindi se richiedo 100, 90 mila euro me li dà l'Europa, 100 mila euro li devo investire io in questi due anni fondamentalmente. Questo è un bando importantissimo, poco conosciuto, perché nel nostro settore se non ci fossero dei focus come li fate voi in televisione probabilmente nessuno conoscerebbe neanche il resto al sud. Però è fondamentale nel nostro settore avere informazione, è fondamentale avere, ripeto, focus su questi bandi perché sono bandi che esistono. Noi spesso sentiamo nei telegiornali i fondi europei sono tornati indietro all'Europa, quelli però sono fondi strutturali, cioè fondi che arrivano alle amministrazioni, quindi regione, comune, Stato. E non hanno le capacità. E non hanno le capacità di poterli far investire sul territorio. Quello che parliamo oggi sono i fondi diretti, cioè quelli che arrivano direttamente alle imprese ed è fondamentale fare un focus su questo perché i fondi sono quasi totalmente a fondo perduti. E questo per le aziende è veramente una mannata a cielo. Quindi a suo parere il sistema di incentivi che lo Stato e l'Unione Europea prevedono è adeguato alle reali esigenze delle imprese oppure servirebbero degli strumenti diversi più adeguati? Questa è una domanda molto importante. Allora, io penso che noi abbiamo avuto una deadline, che è stata quella del Covid fondamentalmente, che ci è servito a capire le difficoltà di chi fa imprenditoria, quindi dei fondi che hanno a disposizione e soprattutto ci è servito a capire quali sono realmente le esigenze per le imprese. Io ad oggi penso che ci sono tre settori fondamentali sulla quale bisogna spingere veramente tanto perché ne hanno bisogno e sono il settore del commercio. Oggi quasi il 90% delle aziende chiude perché l'online, causa Covid chiaramente, è stato, ha preso il volo. Quindi oggi il commercio ha bisogno di aiuto, i commercianti, le imprese. Sotto i piccoli commercianti. Esatto. E quello era quello che portava avanti, diciamo, come dire, anche i brand made in Italy, tutto ciò che faceva parte dei piccoli commercianti che erano il polmone finanziario di questa nazione. Per esempio il settore del turismo. Ancora ad oggi, nonostante noi abbiamo tantissimi turisti che arrivano qui in Italia, ma gli alberghi hanno bisogno di fondi per ristrutturare, hanno bisogno di fondi per investire nel personale. Ad esempio la regione Campania con l'assessore Filippelli ha creato dei corsi di formazione per operatori turistici, cosa molto intelligente, ma uno dei, diciamo, dei caposaldi, diciamo, degli investimenti italiani dovrebbe essere l'agricoltura. Noi con l'agricoltura l'Italia ha sempre avuto una grande importanza, non solo a livello europeo, e attenzione, anche a livello mondiale, ma l'agricoltura ad oggi non riesce a ricevere fondi né dallo Stato, né dalle regioni, né dai comuni. L'unico bando che esiste è quello del PSR, che sarebbe piano sviluppo rurale, che lo danno le regioni, la regione, in questo caso la regione Campania. È un bando importante, spesso però a causa della mancata mancata conoscenza da parte, diciamo, degli impiegati o dei tecnici che si occupano di questo fondo, i soldi tornano all'Europa. Quindi concentrarsi un po', tornare alle origini e quindi riprendere in mano quelle che sono veramente le esigenze del nostro paese e assolutamente fare conoscenza, quindi cercare di ampliare il bacino di utenza verso i fondi, perché effettivamente le possibilità ci sono, le opportunità devono essere chiaramente colte. Io la ringrazio di essere stata in nostra compagnia questa mattina a Mattina Live, quindi ringraziamo ancora una volta Ivan Ghiraldi, esperto di incentivi alle imprese. Grazie, grazie a te. Piccolo break.